buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video parleremo ovviamente del trentatresimo episodio di angry shark world no evolution me lo avevo dimenticato eravamo arrivati con lo squalo martello maggiore via con una buona visione ok raga eccoci qui ragazzi si sente il vento raga è bello forte questo non è l'inverno è l'autunno come avendo che quello lo so riconoscere raga vediamo aspettate ciao Grazie a tutti. Vediamo il rano. Utilizziamo il mego dorando. Ce ne andiamo qui nel Pacifico. Dove che ora si può stare, ragazzi? Invece prima 35... No, 40. 40 eravamo. Troppo caldo. Power up. Dobbiamo attendere. Mega gold rush. Però seriamente, cerchiamo le lettere, così lo facciamo veramente. L'H. Sopra di noi. Dove? Diceva qua la macchina. Eccola qua. Ora la U. U. Molto vicino, posto. Pesci pagliaccio. Ho sbagliato strada. Ho sbagliato. Qua si troverebbe. Eccola qua. Una bella U. Non ci credo. Oggi le lettere vicine. Mangiamole tutte. Angry. La G. Dove può essere? Ho parlato troppo presto, però, raga. Non c'è. Impossibile. Ci deve essere la G. E no. Ah, un altro vicino, apposto. Dobbiamo solo andare più avanti. Dobbiamo prendere questa scorciatoia. Ti ho trovato. In alto, non mi basta. La R. Ci posso arrivare, raga. Tranquilli. Basta che prendo questa scorciatoia. Aspettate. Visto? Ed eccomi qui. Ora devo scendere molto di più della quota. Tu come hai usato? Ma sì, posso mangiarmelo. Se era in Grey Shark Evolution, non lo potevo fare. Perché doveva essere uguale lo squale. Ma visto che è della stessa serie, posso mangiarmelo lo stesso. Da. E' quello che mi... Squalo maco. Squalo tigre dorato. gold tiger shark la y dove? ed è l'ultima lettera lì perfetto andiamo andiamo raga dimissione quando stiamo stando? poco ora facciamo assai una missione la completiamo sicuro brighiamoci perchè queste meduse io ho bisogno tre meduse blu ma pare che non ce ne siano meduse viola ho rischiato grosso piano piano in osservare attenti a non fare scoppiare i palloncini sarebbero le bombe e ti pareva che si è buggato ma se muoio posso attivare il gold rush vieni qua non mi ricordo di che livello siamo arrivati beh uccidetemi che ho il mega gold rush qui è l'aiuto ecco qua ci siamo rango non mi ricordo di che A posto Una canzone su FIFA E questa raga Niente peccato Però guardate Che cosa ho combinato Sì grazie Uccidetemi Che attivo Un ottimo titolo Qua ho trovato Mega gold rush Posso continuar l'infinito Pare che non ce ne siano più Medusa e blu Settecentocinquanta Medusa No C'è settanta Medusa Perché già ero arrivato E come posso Divorarle In una sola giornata Aumento di livello Raga ora Perché ho mangiato Troppo Mega gold rush All'infinito Come titolo Raga Gli sbirri Le persone A posto Guardate che punteggio Però mi mancano Le meduse Quelle blu Dove diamine Le posso trovare Sì Pessime idea E mi ho fatto Una cosa giusta Direi di aver fatto Ma giusto Visto E aumento Anche di livello Devorando Anche cose Più grosse Un altro Mega gold rush Vediamo Occhio Perché se tocco Quella bomba Muorio Muorio In un secondo Uh Attendo Biagio Non toccare Quelle Meduse Perché Muori In un secondo Che saranno Le meduse Più velenose Al mondo La mappa Che dice Il 12% Vediamo Quando abbiamo Fatto salire Questo squalo Di livello Allora 6 Ci siamo 7 7 Di terzo Di tre livelli L'abbiamo Fatto Aumentare Arriviamo A 10 Se è possibile Se è possibile Non mi prendi Allora Sono aumentato Sono aumentato Di livello 8 Scusate Perché Viene lungo Altrimenti Perfetto Andiamocene via Prima che Quello Ritorne L'agile L'ho vista Dov'è Là Scappiò Prima che Quella Basta Un solo Tocco E la Faccio Scoppiare In un solo Tocco Manco Dagli Una Martellata Proprio In un solo Tocco La bomba Viene Viene qua Tu Vediamo Niente Livello 8 Restiamo Rag A meno A 10 Lo possiamo Far Arrivare Vabbè La prossima Alta Facciamo Di più Va bene Concludiamo Qui Il video Dell'episodio Di Angry Shark World Il 33 Episodio Dopo Ci vedremo Con l'episodio Di Angry Shark Evolution Il 90 Novantesimo Episodio La paura Vediamo Se questa Paura Ci porta Fortuna A livello 10 Beh Si spondo Che questo Video Ovviamente Di Angry Shark World Il 33 Episodio Gold Rush All'infinito E facciamo salire Lo squalo Martello Maggiore Di livello 8 Vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Mi raccomando Mettete un bel like Se segui su instagram E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti